Un consiglio che ho seguito su un altro canale e che sta funzionando è investire quello che sei disposto ad accettare come perdita e diversificare. Questo commento ha una serie di grossi problemi che dobbiamo approfondire e se segui i principi di questo video per te perdere nei mercati finanziari sarà pressoché impossibile. È un'affermazione pesante lo so ma te lo spiego in questo video. Ciao sono Giorgio Pecorari investitore, imprenditore e fondatore di Piano Finanziario e in questo video voglio rispondere a questo commento perché la frase investi solo quello che sei disposto a perdere a me fa venire l'orticaria. Perché? Perché io non sono disposto a perdere neanche 1000 euro del mio patrimonio e non capisco come si possa ragionare di investimenti con delle premesse così sbagliate. Definiamo perdita. Cosa significa perdere? Ok i rischi finanziari sono molteplici ci sono tante tipologie di rischio e chiaramente lo spieghiamo meglio nei nostri percorsi all'interno di Piano Finanziario però riconosciamo subito due tipologie di rischio. Il primo è il rischio di perdere soldi inteso come oggi ho comprato 100 azioni di questa società domani questa società fallisce ho perso soldi. Avevo 1000 euro investiti in questa società adesso ne ho zero. Questo è chiamato anche rischio specifico ed è indiscutibile che se sbagli a selezionare questo titolo magari ti sei fidato delle parole dell'amministratore di questa società tante promesse poca sostanza l'azienda fallisce e tu hai perso soldi. Esiste poi un'altra tipologia di rischio che è detta rischio mercato che è quel rischio a cui sei esposto quando ti immergi nei mercati finanziari magari con strumenti diversificati tipo un fondo un fondo pensione un etf eccetera. Hai una diversificazione dei tuoi investimenti perché non acquisti un titolo ma grazie ad uno strumento come il fondo l'etf ne compri 100 200 mille alla volta e quindi anche se fallisce un titolo singolo all'interno di questo paniere di questo contenitore di azioni o altri strumenti finanziari il problema ti tocca relativamente perché hai tutti gli altri che possono compensare la perdita. Quindi il rischio mercato fondamentalmente rimane il fatto che dobbiamo gestire la volatilità di questo strumento finanziario che in questo 2021 ad esempio il comparto azionario è cresciuto tantissimo alla data di registrazione di questo video più o meno l'azionario mondo è cresciuto del 20 per cento. Speriamo continui con questo ritmo ma dobbiamo aspettarci che ci sia volatilità ok quindi magari vedremo degli storni e magari fa meno 5 meno 10 e questa si chiama volatilità del mercato. Negli investimenti vale il principio che ben conosciamo no rischio no rendimento se non sei disposto ad assumerti un po di rischio mercato non puoi ambire ad un rendimento in particolar modo in questo momento in cui l'abbiamo commentato in altri video il mercato è in qualche modo manipolato dalle banche centrali che comprimono molto i rendimenti della classe ad esempio obbligazionaria e quindi è difficile trovare rendimenti interessanti. Quindi alla luce di questa breve spiegazione su come funziona il rischio finanziario e che esistono varie tipologie di rischio finanziario e se vuoi approfondire ci sono i nostri percorsi come investimento consapevole o investimento di lungo periodo questa affermazione non ha alcun senso perché investire quello che sei disposto a perdere io personalmente investo ma non sono disposto a perdere alcun capitale. Questo non vuol dire che non debba accettare la volatilità dei mercati finanziari ok che sarebbe irrealistico ma non sono disposto a perdere cioè non voglio trovarmi nella situazione di aver investito 100 in una cosa e il giorno dopo questa vale zero. Voglio trovarmi nella condizione in cui devo gestire la volatilità il rischio del mercato e questo io lo so fare perché sono un investitore a tempo pieno spieghiamo come si fa all'interno dei nostri percorsi. Quindi verosimilmente hai comprato uno strumento magari un ETF un fondo a 100 e magari dopo un certo periodo questo potrebbe quotare 80. Questa è volatilità e dobbiamo gestire questo ma non vale zero continua a valere 80 e questa magari una volatilità di breve periodo e nel lungo periodo recupererà 100, andrà a 120, 150, 200 eccetera. Quindi noi dobbiamo gestire la volatilità del breve periodo. Il fatto che i mercati sono imprevedibili lo sappiamo che che te ne dica al nostro Adamus che puoi trovare online e che dalla sua cameretta ti fa le previsioni sull'andamento dei mercati. I mercati sono imprevedibili e in un periodo di 6-12 mesi dobbiamo accettare il fatto che non controlliamo l'andamento del nostro portafoglio. È per questo che è importante capire come gestire il rischio finanziario e questo vuol dire anche saper selezionare il rischio finanziario che vogliamo prenderci. Ma esistono rischi che non dobbiamo prenderci in alcun modo e tra questi c'è il rischio di perdere denaro. Io non investo il denaro che sono disposto a perdere. Io investo e insegniamo questo approccio all'interno di piano finanziario tutto il denaro che posso permettermi di vincolare con un progetto di investimento di medio e lungo periodo e lo investo tutto con un profilo di rischio adatto a me. Spieghiamo come trovare il tuo profilo di rischio all'interno dei nostri percorsi ma l'obiettivo è investire tutto quello che puoi permetterti di investire non quello che puoi permetterti di perdere perché io non voglio perdere neanche un euro. L'obiettivo dell'investimento il fatto che non spendo soldi oggi per avere più soldi domani è perché voglio avere i soldi domani se no preferirei spendermeli oggi in una cena o togliendomi uno sfizio. Quindi questo commento mi dispiace perché l'ha scritto non ha alcun senso soprattutto perché appunto come viene menzionato all'interno del commento stesso si parla di diversificazione e la diversificazione è uno degli elementi che ti permette di togliere questo rischio di perdere completamente il capitale e invece ti porta a dover gestire solo la volatilità dei mercati finanziari e quella mi dispiace la puoi limitare la puoi contenere ma non la puoi eliminare completamente. Fammi sapere nei commenti se ti è chiaro il concetto di diversificazione magari potremo parlarne in un altro video. Quindi l'obiettivo di un investitore deve essere quello di capire qual è la propria tolleranza al rischio capire se hai un profilo di rischio basso alto intermedio capire qual è l'obiettivo dei tuoi investimenti perché vuoi vincolare questo denaro cosa vuoi fare con questi soldi nel futuro comprare una casa avere una pensione integrativa cosa ci vuoi fare e ognuno definisce un proprio obiettivo e poi investire tutto il capitale che puoi permetterti di vincolare non deve essere il 100% del tuo patrimonio ma magari una fetta e questa la investi con obiettivi di medio e lungo periodo perché posso dirti che seguendo questo approccio è impossibile perdere nei mercati finanziari perché storicamente è sempre stato così perché se non conosci la storia dei mercati finanziari non sai che per quanto ci sia stata volatilità anche molto forte nel breve periodo i mercati hanno sempre recuperato quindi sono le persone che non sanno approcciarsi nel modo corretto ai mercati finanziari perché commettono errori di investimento errori di natura comportamentale e usano male lo strumento perché i mercati finanziari sono questo sono uno strumento per remunerare il nostro capitale e se lo usiamo bene è uno strumento che ci permette senza grossi sforzi di ottenere dei rendimenti molto interessanti chiaramente in linea con quello che è il nostro profilo di rischio chi è disposto a perdere denaro sta scommettendo denaro ok se io vado a las vegas a giocare a un qualche gioco non so giocare niente né a poker né a blackjack non so giocare niente se andassi la e volessi buttare via 50 dollari lo farei senza alcuna aspettativa di guadagno ma questo vuol dire scommettere non vuol dire investire e scommettere nel breve periodo ti può andare bene puoi anche vincere ma nel lungo periodo statisticamente è impossibile che ti renda ricco o che faccia crescere in modo importante il tuo capitale fammi sapere le tue riflessioni nei commenti non speculare e ci vediamo in un altro video ciao questa è la nuova sezione scopri all'interno di pianofinanziario.it video esclusivi selezionati in base alle tue preferenze sondaggi per verificare la tua situazione finanziaria quiz per controllare se hai compreso i contenuti più importanti della lezione questo è tanto altro nella nuova sezione gratuita all'interno di piano finanziario iscriviti ora su www.pianofinanziario.it